Essere risvegliata questa necessità e questo piacere di regalare, il piacere di regalare più che di ricevere. Chiusi anche gli ultimi pacchetti è ormai scaduto il tempo per lo shopping natalizio e per i commercianti è arrivato il momento dei primi bilanci. Difficile oggi dare indicazioni precise, ma la sensazione tra i negozianti comaschi è che qualcosa si è cambiato, soprattutto pensando agli ultimi pesanti anni di crisi. È importante che la gente sta spendendo di più per i regali, è un effetto che beneficia alcuni settori più che altri. Senz'altro i giocattoli, i profumi, i vini, i dolci saranno predominanti. La differenza forte è che una volta si facevano i regali importanti, cioè il Natale era l'occasione per soddisfare la richiesta della moglie, piuttosto che di un figlio. Adesso invece l'importante è il pensiero, si dice, e allora magari il regalo, pur originale, ma non è così importante, così determinante come quello di una volta. Più regali, magari meno impegnativi. Questa sembra essere la tendenza, mentre cresce anche tra i comaschi la passione per lo shopping online. Basta pensare che, secondo una ricerca della Camera di Commercio di Monza a Brianza, il 14% delle famiglie lombarde compra su internet, mentre quattro anni fa la quota era dell'1%. Resta il fatto che, complici il bel tempo, l'iniziativa è natalizia e la città di Como, nell'ultimo mese, è stata presa letteralmente d'assalto durante ponti e fine settimana, per la giaia dei commercianti comaschi, per i quali resta un unico punto dolente, la carenza di parcheggi. A piedi magari, a piedi magari è facile, non tanto perché bisogna scomitare, perché effettivamente è venuta molta gente a Como, complice la bella accoglienza che Como sta facendo. Naturalmente per arrivare a Como ci sono i soliti problemi. È Natale, siamo buoni, cerchiamo di non fare polemica, almeno oggi. Rivediamoci dopo Natale.